benvenuti nel tea time comics nel salotto dello scarabocchiettore scusate in ritardo e come al solito il bello della diretta ci sono stati problemi tecnici ma siamo qui per voi per parlare di quello che più ci piace i fumetti passeremo un'ora parlando della non arte e di chi la fa con noi questa volta non sarò l'unico a condurre questa line ma ho il piacere di un gradito ritorno da parte dello staff e un bravo sceneggiatore per paolo faria grazie grazie sempre un piacere essere nel salotto dello scarabocchiatore e questo pomeriggio per questa diretta avremo anche la particolarità di ospitare chi forse i fumetti non li fa tanto in prima persona ma li sa conoscere approfonditamente li sa presentare pubblicizzare e forse ci saprà spiegare come si fa a diventare non solo amanti dei fumetti ma anche propagatori di fumetti una cosa un po strana ma sicuramente appassionante e infatti abbiamo con noi niente poco di meno che alessia paragone ecco alessia e complimenti per aver accettato l'invito ea piede per la presentazione ma grazie a voi veramente grazie anche per la splendida presentazione che avete fatto non merito confesso che gran parte del problema è stato mio per questo ritardo come si sa le donne sono tremende però sono parole tue noi non le abbiamo dette quindi non ci accusate in realtà l'ho detto offline quindi andiamo comunque mancava il me too nel fumetto grazie per paolo io non li faccio nel senso che non li disegno non li scrivo come fate voi due però ne parlo sì questo è lo scopo del del mio blog e del mio libro e allora partiamo proprio da questo come nasce il tuo blog in cui parli di fumetti il blog nasce perché erano tanti anni che mi occupavo di fare di interviste a personaggi del settore è un certo punto proposto al mio editore il direttore del mattino puglia basilicata di avere uno spazio dedicato soltanto al fumetto quindi è nata da questa piccola intuizione lui mi ha detto che per lo spazio ed è nato le nuvole parlanti inizialmente una scommessa che è partita con l'intervista i personaggi locali poi ci siamo mi sono subito ingrandita ho iniziato ad allargare il raggio forte anche del fatto che mi occupo da alcuni anni della comunicazione del festival del nerd che cos'è il festival del nerd molti amici vengono al festival che ferrandino dovrebbe ben conoscere è un festival per ovvi motivi è un festival che si fa nella mia città che è foggia che è dedicato al fumetto al comics ai giochi di ruolo all'animazione insomma a quello che tutto il mondo nerd sono diversi anni che lo facciamo quest'anno è stata un'edizione anche di svolta piuttosto particolare perché abbiamo avuto un edizione che è stata dentro la città per le vie del centro cittadino per la prima volta e quindi è stato un successone tra l'altro sono arrivati i primi saluti che ti metto in impressioni c'è il mano massenzo che è anche un autore che è nel tuo libro che salutiamo è che è un amico paolo di mario germano lo considero un amico oltre che un autore tra i miei preferiti ed è nel mio libro e non sapevo veramente quale cosa quale intervista mettere perché lui ha fatto delle pubblicazioni che a me piacciono moltissimo ma quest'ultima munca che tu mi sa conosci vagamente vero chi è chi è un bellissimo fumetto bellissimo fumetto è avuto veramente un gran successo ecco germano è uno dei peraltro è uno degli autori più apprezzati del blog oltre che del festival del nerd un grande artista devo dire mi chiedono spesso di lui insomma mi danno ecco gli autori apprezzati per un blog sono importanti perché ti fanno girare molto la notizia allora parlato del blog puoi dire dove qual è l'indirizzo web dove lo troviamo qual è il titolo del blog allora a trovare il blog o si va su google e si scrive il mattino di foggia alessia paragone ed esco io con questa foto mia si vede questo faccio ne escono gli articoli oppure tramite la pagina tramite facebook se si entra su il mattino di foggia oppure si va su alex comics si arriva direttamente anche perché io utilizzo il profilo social semplicemente per mettere gli articoli del blog quindi si arriva direttamente agli articoli del blog perfetto le nuvole parlanti eh sì lo so è un titolo scontato eccolo qua il nostro piere ce l'ha a favore di telecamera divertentissima cover allora per la cover ringraziamo giuseppe guida giuseppe guida che è un amico è un amico giuseppe guida ecco che mi ha fatto lui ha detto in versione pucciosa se mi riesce di inquadrare stai con calma stai con calma ok non lo fa vedere lo fa vedere pietro tu non ecco lo faccio vedere ok ok eccolo ce l'hai fatta anche il tuo faccione versione pucciosa pucciosa eh ho detto che sì però adesso al prossimo libro perché prima o poi triturerò con un con un prossimo libro non voglio la versione pucciosa mi voglio in versione stile satanica ma ovviamente max bunker la domanda che viene fuori alessia è come si è passati dal blog al libro di chi è stata l'idea e come poi concretamente hai scelto le interviste tra le tante che ovviamente hai fatto quelle che poi sono state raccolte pubblicate nel libro allora innanzitutto voglio dire che le nuvole parlanti eh stavo dicendo prima è scontato ma in realtà è un omaggio a un albo di martin mister il mistero delle regole parlanti perché io ho sempre avuto un amore particolare per alfredo castelli che omaggiamo per me è stata una figura fondamentale si è passati alla raccolta delle interviste sinceramente è stata un'idea dell'editore quando ha visto che il blog andava bene mi ha detto fosse il caso di avere una ruge di fare una raccolta delle interviste le interviste sono moltissime perché il blog esiste da tre anni e io pubblico una media di due tre interviste a settimana quindi ho dovuto fare una scelta questa volta ho messo le persone a cui sono più legata oltre che gli autori ovviamente ci stanno molti autori che sono collegati a diabolic e a martin mister tanto per essere e devo essere sincera perché sono diabolic mh e pierpaolo lo sa perché noi ci siamo conosciuti in quell'occasione io sono fan di diabolic da da sempre come appunto pierpaolo specifichiamo che ci siamo conosciuti nell'ambito del dei taranto diabolic days questo evento che ormai è giunto nel duemila e ventiquattro alla terza edizione che organizzato a taranto appunto da vladimiro galopalo un grandissimo appassionato lettore collezionista di diabolic che è riuscito a portare a taranto il gota diciamo così dei lettori di diabolic senza voler naturalmente parlare male di chi per vari motivi non ha voluto potuto partecipare a questi eventi e nell'ambito di questa edizione la terza abbiamo approfondito la nostra amicizia ma soprattutto alessia aveva appena dato alle stampe le nuvole parlanti quindi è stata un'occasione doppiamente propizia e a questo punto non posso che chiederti come è stato intervistare andrea agati e spiegaci magari andrea agati va sì perché io ho dato uno spazio io do uno spazio a tutti i componenti del mondo fumetto quindi agli uffici stampa per esempio intervistato enrico ercole che l'ufficio stampa della storina e complimenti perché sono degli ambiti che spesso vengono non vengono presi in considerazione le maestranze o chi lavora un po più dietro stanze sono tante perché ad esempio a breve ho delle interviste con le persone che si occupano del lettering perché perché ovviamente il mondo del fumetto come dici tu ha tante maestranze non soltanto i disegnatori i sceneggiatori ma c'è tanta gente quindi anche noi poverini uffici stampa così anche noi stiamo per esempio enrico ercole un è un collega simpaticissimo ed è l'ufficio stampa della storina e salutiamo complimenti del lavoro che fai e infatti saluterei anche altri colleghi per esempio i toni borisegni della bonelli sempre disponibilissimo infatti appena conosciuto un altro collega giovanni della star comics anche lui molto disponibile e quindi ho iniziato questo mi sono dedicata anche al settore fan perché sì il fumetto voi lo fate ma la gente l'acquista soprattutto si spera e grafico vanno molto bene e quindi ho indagato nel panorama del mondo fan di cui io stessa faccio parte perché sono una collezionista compulsiva e quindi ho conosciuto Andrea Agati che è una con Lorenzo Altariva insomma sono tra i massimi esperti di diabolica e collezionisti di Andrea credo che sia vero che salutiamo confesso che non mi conoscevo quindi credo che sia un maggior collezionista di diabolica Andrea vero per Paolo? sì però diciamo che i collezionisti comunque di alto livello ce ne sono tanti altri questo lo diciamo perché non vogliamo far torto a nessuno ma Andrea è certamente quello storico e forse anche colui che ha avuto il merito a livello nazionale circa 30 anni fa di cominciare a far uscire diabolica dal mondo della carta per farlo incarnare per far incontrare tutti gli appassionati ripeto ce ne sono anche altri di grandissimi collezionisti lettori di diabolica però il punto di riferimento è sicuramente Andrea e come sei riuscita ad intervistarlo soprattutto questo mi incuriosisce senti grazie a facebook io ho contatto su facebook io sono entrata subito nei gruppi che mi interessavano l'ho contattato via messenger gli ho chiesto il numero di telefono e avevate appena partecipato al Taranto Diabolic Days 1 quello del 2022 sì quello del 2022 ho detto dai non non si può mancare quindi ci siamo sentiti poi c'era stata anche l'occasione abbiamo parlato anche dei film di Diabolic che piacciono non piacciono comunque sono stati fatti a me piacciono per esempio anche a me sono mi sono piaciuti devo dire sì quindi abbiamo io sono contro tendenza preferisco quello di Mario Bava però l'abbiamo opinione prego no io quello non lo sopporto personalmente però poi sì no ma devo dire che se in maggioranza Marco molte apprezzano quello e non hanno gradito molto la trilogia dei Manetti prossimi secondo me è stata invece una trilogia dignitosa con qualche pecca magari ma nel complesso positiva come opera e perché comunque è semplice farlo vai vai permettimi pure è anche vera una cosa che difficilmente riescono bene le trasposizioni dei fumetti nei film e questo è un dato di fatto cioè anche con i super soldi americani non riescono bene quindi non è neanche una questione di budget di che è proprio così il fumetto una cosa il film un'altra questo a me pure io appartengo la minoranza a me è piaciuto di più piaciuta di più la trilogia dei Manetti sinceramente il primo un po bondiano e quindi ho contattato sia Andrea e poi ho contattato Luca Salvadei e Paolo Mignone di Amis anche Luca Salvadei è presente nel libro per esempio Amis pure un altro gruppo fan sono gli amici del buon vecchio zio Martin ovviamente si conferisce a Martin Mister certo è un gruppo molto interessante e molto importante quello è molto interessante ufficio stampa fandom bravissima si è coperto tutto l'arco diciamo no letteristica ha detto a breve intervista a breve intervista ero Ferrandino che era l'altro va bene qualche caduta di stile ci può stare però comunque tutti bravissimi autori se mi permettete a questo proposito posso che mostrare allora io adesso se Alessia permette ti metto un attimo in visione principale l'autografo che mi ha fatto Riccardo Nunziati e che ovviamente anche è questo ballando di fandom eccolo e quella che vedete alle spalle è la mostra che è stata allestita nel corso della seconda edizione dei Taranto Diabolic Days del 2023 quindi non posso recitarlo e mi permetto anche di dire sicuramente Marco e Alessia approveranno che lo scarabocchiatore sta lavorando a un grande progetto con la storina su Diabolic i lavori sono in corso diciamo c'è un segreto d'ufficio da mantenere però tutti gli appassionati non potranno che rimanere contenti di quello che verrà fuori come lavoro eccezionale ne vedranno delle belle c'è un po davanti sì così diamo un'occhiata una pagina a caso è stata veramente casuale non era un segno vai vai prego prego eh sì di alcuni mi sono voluta mettere ho voluto mettere la foto sì credo che sia Giuseppe ok allora io proponevo se siete d'accordo posso condividere il file così lo vediamo un po meglio senza svelare nulla se per voi va bene a proposito ma anche lo scarabocchiatore è amico del mio blog perché è amico di tanti e lo salutiamo con grande affetto ovviamente è amico di tanti eccolo qua le nuvole parlanti questa è la seconda di copertina in fronte a spizio perdonatemi le nuvole parlanti il titolo che da ha dato la nostra Alessia a questa raccolta di interviste è una raccolta di interviste sì è brevissima perché siccome io mi annoio da sola non sto là a scrivere prefazioni lunghe ok do una scrollata Alessia ma qual è stata l'intervista più difficile da realizzare allora ti faccio una domanda scomoda ma senti la più difficile secondo me è stata quella i cost perché siccome si vede scusami se ti interrompo è l'indice del di tutti gli autori che stanno quindi come hai detto prima scusa se cambia argomento chi non sta in questo indice non ti è simpatico no non è quello stanno le persone quindi sapete sappiatelo sappiate se vi hai intervistato e non state qua state sull'altra lista capite le cose no veramente scherziamo no 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 è che non ho fatto però vi motivi anche di costi della pubblicazione non ho potuto mettere tanti altri poi non so se avete visto la pubblicazione è molto colorata sì sì adesso proseguo lo scroll mentre ci dici dell'amico Igor è proprio brutto devo dire che ho avuto un grafico ecco il grafico lo salutiamo visto che allora si inizia subito con questa bella ragazza qui ecco scusami ti ho interrotto per il fatto di Igor volevo sapere è stata la più difficile è stata difficile per il fatto che Igor è totemico ha fatto tantissime cose poi voglio dire sono tutti bravissimi disegnatori però Igor appartiene proprio alla storia del fumetto italiano quindi sono stata molto tesa avevo tanto timore di Igor che invece in realtà si è dimostrato persona molto disponibile affabile anzi proprio bravo però avevo paura di sbagliare nello scrivere le interviste e compagnia bella quindi alcune interviste le ho viste riviste quattro cinque volte con grande attenzione certamente l'intervista che per me è stata più importante è stata quella di Alfredo Castelli di cui ho conservato anche il video perché ho fatto un'intervista con collegamento zoom compiando Alfredo Castelli che come sappiamo non c'è più è autore di tantissimi frumenti tra uno dei più importanti conosciuti e Martini Misteri che penso che tutti lo sappiamo è stato autore anche per Diabolic per esempio grande sceneggiatore tu lo sapevi Pierpaolo che Mario Gomboli si trova a scrivere per Diabolic grazie ad Alfredo Castelli che era un suo amico? all'epoca lo segnalò sì perché lo ha raccontato lui stesso in un documentario dedicato a Diabolic però è vero è fatto bene a dirlo perché spesso non si sa però fondamentalmente se Gomboli è lì e quindi se la storina e quindi se Diabolic ha potuto compiere 62 anni è stato anche grazie ad Alfredo Castelli quindi scopritore di talenti fra le tante cose sì devo dire la verità che le interviste io le faccio anche perché voglio capire un po' cosa c'è al di là dell'artista e c'è anche una domanda non so se la possiamo far vedere Marco sì 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 la passiamo ad Alessia una domanda interessante ciao Alessia complimenti per il tuo ottimo lavoro posso chiedere sei punti di riferimento al quale ti ispiri e quali letture preferisci grazie vabbè secondo me un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole fare le interviste ai fumettisti è la lettura delle interviste che ha fatto Laura Scappa mi permetto di dire che Laura Scappa l'ho anche intervistata io in questo spazio eh ed è una persona stupenda vero? sì sì bravissima a me è piaciuta molto infatti l'ho intervistata e lei sta già pronta in un secondo volume dedicato alle figure femminili che non sono tante nel fumetto stanno aumentando ma non siamo molte lei è stata anche una delle prime a dare spazio agli sceneggiatori che di solito vengono messi in secondo piano invece le pubblico anche tanti anni fa delle interviste all'arte della sceneggiatura mi ricordo infatti quello è un libro bellissimo secondo me è bellissimo sia per chi vuole scrivere sceneggiature sì perché comunque ci sono degli sceneggiatori che ti dicono anche quali sono le cose da fare e non da fare quando provi a consegnare le sceneggiature poi lei ha tutta una tecnica quando intervista che è fondamentale quello che interessava a me era scoprire un po' il perché uno decide di fare questo mestiere che specialmente negli ultimi anni non è semplice voi lo sapete non si vendono più i fumetti come qualche anno fa quando c'era il boom ad esempio negli anni 90 è comunque un mestiere rischioso mi interessa sapere perché si sono avvicinate a questo mondo e soprattutto scoprire anche alcuni di loro perché se da una parte noi pensiamo agli artisti come a delle persone magari concentrate su estere come degli egocentrici invece io ho trovato molto altruismo persone che segnalano altri artisti senza problemi e questo è molto bello molto bello a proposito di letture io sono pazza a parte diabolico vabbè questo si è capito ma sono pazza di una striscia che si chiama Don Esburi la conoscete? no io no Don Esburi è stata pensate la prima striscia fumetti a vincere il premio Pulitzer viene disegnata da Gary Trudeau pubblicata da Linus in Italia è una striscia molto importante che tocca soprattutto temi politici in America nella vita americana ed era tradotta da Enzo Baldoni che è stato sempre uno dei miei giornalisti preferiti di riferimento non so se ve l'ho ricordata Enzo Baldoni è il giornalista che purtroppo è stato ucciso in Iraq nel 2004 quindi anche lui è un progetto di riferimento si anche lui quindi Linus la rivista dove vede Igor direttore tra l'altro e vabbè è inutile che ve lo dico è stupenda si vede che c'è la mano di Igor Linus rimane comunque tra le mie pubblicazioni preferite in edicola ancora una rivista d'edicola che sopravvive non è facilissimo come hai detto tu i numeri non sono più quelli di una volta quindi complimenti anche ma non sono più quelli di una volta su tante altre cioè voglio dire purtroppo prima c'erano tante belle riviste Eureka Orient Express parlando di Laura Scarpa ricordo sempre Scuola di Fumetto con piacere bella molto bella io ricorderei anche saluterei pure Loris Cantarelli con Fumo di Fina Loris Cantarelli con Fumo di Fina che esce anche in edicola tranquillamente sì e fanno sempre un bel lavoro io proseguirei nello scoprire questo tuo bel volume togliamo questa signorina che mi abbatte l'autostima per favore ah io l'avevo messa apposta per non per la tua autostima ma per questa è l'intervista a Pasquale del Vecchio come abbiamo visto no questo è Beniamino del Vecchio ah Beniamino del Vecchio che è stato disegnatore su Diabolic pure e adesso sì bravo sei arrivato a Pasquale del Vecchio Manfredoniano peraltro lui disegna le origini ormai manfredoniane perché loro parecchi vivono a Milano no e questo è un amico anche lui fa parte dello scarabocchiatore scusate la citazione nepolistica mi pare giusto hai fatto bene a metterlo nella lista dei buoni che è un bravissimo ragazzo sì devo dire quindi stiamo scoprendo tutti come hai detto come hai annunciato è tutto coloratissimo quindi è anche una stampa importante ma dove lo possiamo recuperare? allora c'è un o si va direttamente sul sito il mattino ah quindi direttamente dal sito del mattino è possibile reacquistare sì oppure eh oppure tramite la mia pagina Facebook me lo si chiede direttamente perché adesso devo spedire delle copie sto per spedire delle copie a Spazio Wow Fumetto a Milano però ovviamente per Spazio Wow Fumetto chi non è a Milano non le può prendere per il momento e sta da Ubic a Foggia e in un paio di edicole non non ancora sai com'è adesso la distribuzione è piuttosto lì infatti stavo domandando ma l'editore è editato? che avete detto? l'editore il sito l'editore ce l'ha sul sito sul catalogo è possibile sì sì sta sul sito quindi è anche un'altra fonte di di attorzionamento sì 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 il sito dell'editore che me lo ricordi qual è? scusami il castello il castello edizioni di Foggia il castello edizioni potete andare anche sul sito del castello edizioni sul sito del mattino mattino di Foggia è possibile recuperarlo è possibile recuperarlo tanto costa pure pochino non costa tanto e a proposito di Puglia il terzo capitolo la terza intervista è dedicata a un altro pugliese che è Antonio Muscatiello il nostro Antonio Muscatiello un autore diabolico è un disegnatore eccezionale Muscatiello ma per curiosità come le hai gestite queste interviste? come le hai? come le hai gestite? su cosa hai cambiato le domande? allora considera che Antonio alcuni li ho intervistati più di una volta per esempio Antonio li ho intervistati più di una volta quindi ho scelto quella che secondo me era più significativa considera che ci sono autori che si aprono anche e ti dicono anche ti fanno capire anche emozioni come sono fatti e questo significa molto perché secondo me hanno successo gli autori che riescono ad essere empatici con il pubblico mi sono fatta questa personale teoria quindi scusami l'autore è Paula Sanger che è ritroso verso il pubblico secondo te non ha lo stesso appeal sul successo? secondo me non ha lo stesso appeal perché per quello che vedo hanno molto successo gli autori che sanno comunicare tanto infatti non è un caso ti faccio notare che stanno quasi tutti sui social sì anche perché questo non è più un mestiere come tanti anni fa è un mestiere dove ci devi essere ma le fiere fumetto devi essere riconoscibile ci sta il firmacopio e quindi gli autori sono molto presenti sui social pubblicano le tavole pubblicano le bozze nelle notizie quando si tratta di sceneggiatori questo è molto importante perché si crea anche una fidelity no? sì anche se c'è una polemica che a volte l'autore tende a passare davanti alle storie si segue più l'autore se è un autore diciamo performer insomma un autore che si fa influencer che si segue più lui che le storie c'è questa polemica senti secondo me si è sempre seguito più l'autore che le storie tu pensi ad Andrea Pazienza sì Andrea Pazienza sì però una volta Bonelli neanche sapevi che sclavi che scriveva di l'autore appena si è saputo che sclavi scriveva cioè sclavi da ragazzino nessuno sapeva sclavi è venuto poi il fandom dopo però per fortuna sì però sai negli anni d'oro ad esempio di Andrea Pazienza si sapeva di Milo Manara si sapeva cioè tu comunque seguivi l'autore Ugo Pratt era Ugo Pratt parlo di grandi nomi adesso è anche giusto che sia così perché magari però non è che si sta andando verso un eccesso opposto rispetto al passato no secondo me no perché comunque tutto ciò che crea Fidelity fa bene io ricordo pure Topolino non mette tanti anni fa non metteva i nomi degli autori eh ma c'era polemica anche su quello su quello sì sì c'era polemica opposta volendo si trova la polemica su tutto giustamente no a volte se proprio dobbiamo trovare una polemica è quando secondo me il so cioè però quello è un appunto di vista voglio dire prettamente personale a volte non cascare nelle polemiche altrui cioè chi è artista pubblica le sue cose così ehm cercare sempre di mantenere una specie di bolla protettiva allora sono arrivati altri saluti che ti rimando ah Franca Ciriani ci sono riuscita penso si riferisce a collegarsi che salutiamo Alessia non è bravissima è eccellente quando ho detto non è bravissima ho pensato ora a altre cose grandissimo Loris Cantarelli Germano che ci sta seguendo lo conferma e confermiamo e poi Germano si è inserito con i suoi commenti in quello che dicevamo proprio poco fa il fumettista deve stare un passo indietro per esempio a differenza da tua Alessia lui dice che secondo lui da fumettista da bravissima dice forse è meglio stare un po' indietro rispetto al lavoro chiaramente sono vari punti di vista beh chiaramente è giusto anche tenendo conto che poi il punto di vista di un giornalista è il punto di vista di chi si occupa di comunicazione quindi dirò a un giornalista che deve stare un passo indietro insomma capito è ovvio che ci siano due punti di vista differenti probabilmente se Germano dice così avrà capito siccome lui è un artista del settore si vede che avrà motivo di dire che è esattamente così allora continuiamo lo scroll che mi piace farlo vedere è molto bello ti faccio un esempio su Diabolic no? sì è inutile dire ma alcuni artisti sono riconoscibilissimi già quando vedi una mezza vignetta sì io Palumbo lo riconosco in mezzo a chiunque certo sì per farti un esempio eccolo qua l'abbiamo nominato sta seguendo eccolo qua a tu per tu che sia così ad esempio a me piace anche Zero Calcare mi piace il fatto che Zero Calcare abbia dato in un certo senso un'ovalinfa al settore no? sì indubbiamente sì sì penso che piace a tanti Zero Calcare sì molto seguito molto visto ed è vero ha avvicinato al fumetto gente che prima al fumetto non lo leggeva anche perché il suo è un modo di fare fumetti abbastanza insolito e molto coraggioso prendere temi di attualità parlare anche di ciò che può essere più scomodo ma al tempo stesso far sentire incluso chi si trova ai margini della società ha forse come dire trovato una nuova funzione al fumetto che sembrava essersi esaurita o non essere persino ammessa dai soliti passatemi il termine lettori di fumetto sì non so tu come la vedi Alessia questa no no la vedo esattamente come a te è giusto che sia così così come Mark Cox o ad esempio io adoro un vignettista che lavora sul fatto quotidiano Mario Natangelo ah come molto però a volte vabbè a volte non la tocca piano vabbè come la mia allora se fai satira deve essere anche così insomma deve avere anche un buon gusto io sono di dire che la satira deve essere libera a 360 gradi non mi scandalizza niente Natangelo mi piace molto nella sua generazione è unico perché personalmente voglio dire si è interrotto cioè Torti Vauro Stefano Disegni così a livello di satira c'eravamo un attimo persi Natangelo sta dando nuova linfa anche al settore satira che un tempo era bello tosto in Italia vi faccio ricordare il cuore insomma avevamo delle belle pubblicazioni volendo pure Mark Cox si potrebbe dire satira sì si sono riallacciati al discorso che abbiamo fatto prima io Scrami l'ho conosciuto da adolescente sulle pagine dell'allora mitico giornalino come sceneggiatori di fumetti tipo vita da cani e agente Allen vabbè il Germano chiaramente stavamo scherzando nessuna polemica con Alessa solo punti di vista vabbè questo è evidente ma è anche bello avere punti di vista diversi altrimenti non c'è vero dialogo è anche divertente chi dice non leggo fumetti leggo graphic novel eh vabbè forse si intende che non legge la serialità sì sì però sempre fumetti sono la serie è stata proprio importante ecco la sedia del diavolo è bellissima sì ma tu hai anche una recensione delle opere degli autori o queste sono solo interviste eh che hai detto Marco fai anche una recensione delle opere oppure queste sono solo interviste no 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 sono solo interviste queste sono solo interviste eh per esempio vedi Germano con la sedia del diavolo ha riacceso l'attenzione su una eh su un monumento chiamiamolo monumento tra virgolette che sta in provincia di Foggia che nemmeno sono cioè io abito da quelle parti non sapevo dell'esistenza di questo posto e questo è anche il potere del fumetto della graphic ecco quella graphic è importantissima perché ha elevato il settore finalmente ha fatto arrivare il fumetto anche nelle librerie questo è importante è bello entrare e vedere il settore fumetti e poter scegliere tra tante pubblicazioni e non tra tra due e tre e smentisce anche tutti quei profeti di sventura che dicevano che il fumetto ormai era morto perché almeno si sentiva spesso dire in giro questo e invece il fumetto sta dimostrando una vitalità enorme anzi secondo i dati pubblicati dall'AIE e grazie al fumetto che i giovani e i giovanissimi ancora oggi leggono in Italia ed è un settore in espansione che ha un merito che non può essere ignorato anche se spesso viene guardato dall'alto e con una certa sufficienza il fumetto come una sorta di lettura di svago ma che non è nemmeno una vera lettura su questo si è aperto un grande dibattito non so se tu Alessia lo hai mai affrontato nelle tue interviste allora io l'ho affrontato perché io insegno anche i miei alunni e cosa insegni? scusami posso chiedere? io allora io sono si chiamano docenti laboratoristi è un laboratorio appunto di graphic journalism ah forte eh insegno allora i miei alunni poveri sventurati me li sono portati pure al Comic-Con per più di una volta al Comic-Con di Napoli quindi hai fatto una piccola trasferta eh è piaciuta molto come trasferta loro ovviamente eh insegno propongo molti fumetti a loro piacciono li lascio liberi nella scelta perché tu non puoi dire dovete leggere solo questo quest'altro perché se uno piace il manga si legge il manga se uno piace quello si legge quell'altro eh il fumetto è anche pedagogico faccio un esempio dovevo spiegare la Divina Commedia ho utilizzato la Divina Commedia di Toninelli infatti bellissimo ho pensato proprio a questo ecco infatti divertentissima un approccio ironico peraltro Marcello è venuto a scuola eh la scuola è mia ed è permettetemi di dirlo un signore oltre che un grande artista che salutiamo salutiamo e sarà anche nella rivista volume 3 dello Scarabocchiatore perdonatemi la preferenzialità adoro Marcello Toninelli scusate io già da bambino lo adoravo ecco lui riconoscibilissimo anche sulle pagine del giornalino anche se non sai non c'è la firma capisci chi è chiaro si capisci subito che è lui devo dire e ai miei alunni è piaciuto molto infatti hanno comprato i libri di Marcello perché gli piaceva ecco lì ad esempio c'è una Divina Commedia vista in maniera un po' ironica così divertente è pedagogico anche quello così non so se vi ricordate ad esempio la trilogia shakespeariana di Gianni De Luca come no le shakespeariane scusate è proposto recentemente da NPE per non dire che fa lo sole dello Scarabocchiatore NPE fa delle pubblicazioni bellissime bellissime ha recuperato di una battaglia tanti autori topi topi si ha veramente lo stesso De Luca De Luca un grande ah vedete qua stiamo vedendo Dampir questo è Alessio Fortunato sto dando una scrollata veloce perché è bello denso quante pagine sono? oddio non mi ricordo vabbè diciamo dal file risulterebbero una ottantina di pagine no io siamo quasi sulle 150 chiaramente ho appena spogliato quindi è una bella condizione corposa corposa e soprattutto come ho detto prima considerate che di prefazione c'è poco e niente quindi è tutto dedicato agli autori è tutto dedicato agli autori alle vignette disegni così quindi dicevo il fumetto può essere pedagogico va proposto alle nuove generazioni perché noi dobbiamo proporlo secondo me cioè non possiamo arrenderci all'idea no vabbè ma tanto quelli ormai stanno sui cellulari no non è vero se lo proponi lo leggono c'è sempre un modo per proporlo e qual è il modo migliore secondo te? beh secondo me sarebbe come dire qual è il modo migliore per insegnare sai cosa funziona Pierpaolo? se loro capiscono che tu hai veramente passione in una in una cosa quella passione tu la trasmetti il discorso che facevamo prima degli artisti che se sono empatici fanno passare il messaggio no? cioè se tu hai passione tu gliela trasmetti e quindi li coinvolgi in maniera positiva sempre sono convinta guarda allora io devo per forza leggere la presentazione di Giuseppe Guida che abbiamo nominato prima e che salutiamo super maestre milf artisti maldiettivi uomini onesti viaggio dai personaggi del foggiano Giuseppe Guida comunque complimenti al grafico veramente ha fatto un bellissimo lavoro di immaginazione veramente già sforiano così attira l'attenzione ricordiamo che è disponibile questo volume Castello Edizioni e Pagini il mattino di Foggia sì oppure potete contattare Alessia direttamente bellissimo lavoro vero sì bravissimo pensa che io non avevo pensato al fatto di mettere le pagine colorate è stata un'idea proprio del grafico e interviste ai grafici sono previste ci vorrebbe proprio vedi ti ho lanciato l'idea è un gran lavoro devo dire è un secondo libro può essere un'idea da portare avanti una cosa certamente che manca sono le interviste penso non vorrei ripetermi però le interviste alle donne perché ci sono poche donne e invece poche donne intervistate o poche donne che fanno questo lavoro secondo me ancora poche donne che fanno questo lavoro ah sì oddio di autricine conosco tanti se mi sì ce ne sono stanno emergendo però famosissime 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 oggettivamente sono poche io per esempio ho intervistato Silvia Ziches anche nel libro Silvia Ziches io saluto Susanna Raule Val Romeo insomma secondo me ce ne stanno per esempio mi ha intervistato la Baraldi Barbara Baraldi la curatrice di Dilan Dog che sta usando vorrei tanto il contatto di Barbara Baraldi ma lei risponde sui social come se la contatti è molto reattiva è una che cura molto il suo fandom quindi puoi contattare l'abbiamo anche intervistata nel nostro salotto dello scarabucchiatore l'abbiamo dedicato anche un omaggio sulla nuova rivista a proposito io ho fatto un articolo sulla scogliere dei suicidi che ho trovato veramente bella come pubblicazione scogliere dei suicidi che è dello scarabucchiatore sempre per parlare un po' delle cose nostre anche eh parliamo un po' sì infatti questa è stata una bellissima pubblicazione infatti la tengo gelosamente conservata mi piace molto la vado anche a rileggere l'opera prima della nostra casa editrice sì opera prima infatti e lo scorabucchiatore ad esempio è una bella realtà che sta venendo fuori mi piace anche il salotto a proposito saluto anche il salotto di Sheldon come no? eh ad esempio questo ne parlavo proprio con Manuel del salotto di Sheldon è bello questo fatto che siamo un po' collegati tutti tra di noi cioè è un bel campo sarebbe bello anche se tra chi si occupa come giornalisti del campo fumetti ci fosse una maggior coesione collegamento perché voglio dire siamo tutti appassionati inutile farsi la guerra meglio essere anzi tutti quanti collegati parlando di autori questa forse non l'ha intervistata questa signora del fumetto italiano non lo so però te lo consiglio Giovanna Casotto no Giovanna Casotto no non l'ho intervistata passate i numeri in privato poi dopo ciao Marco ciao a tutti siete bravissimi quindi Giovanna tieni una intervista prenotata con la nostra Alessi si è guadagnata mi lasci il contatto mi dico Marcello Toninelli di Vina Commedia che ha visto la luce appunto sul giornalino così come Radio G.S. Shakespeareana dell'immortale Gianni De Luca siamo tutti appassionati di fumetto che ci segue chiaramente Giovanna Casotto ha fatto un allegato di un fumetto che sarà allegato alla nostra rivista quindi per dire che ce l'abbiamo nello staff diciamo nello staff è una delle autrici che collabora con noi ho capito e dov'è pure lì della zona campana? no non credo mi cogli un fallo lo sai non so di dove sia ci hai fatto una domanda che ci ha preso so che è brava la presenza di disegnatrice specializzata nell'erotico poi Giovanna se ci fai sapere di dove sei così ti veniamo a trovare magari infatti ultimamente ho intervistato una bravissima disegnatrice che si chiama Dorilis Giacchetto che ha fatto una graphic su Audrey Hepburn questo sono io con Giulio Giordano Pierpaolo hai riconosciuto il murales di Diabolik vero? certo Pierpaolo no questo era un test è un test domanda questo murales esiste sta a Stornarella Stornarella che è provincia di scusate l'ignoranza ovviamente è un paese guarda è un paese completamente coperto dai murales è stupendo ah bello questo è il nostro Giuseppe Palugo di uno dei miei miti in questo momento autore di un recente texone se non dico male ah l'ho preso è bellissimo dicano quello che vogliono dicano quello che vogliono ah vedi ti riferisci a tutte le polemiche che stanno nascendo intorno a questo texone senti allora le stesse polemiche le fecero pure sul texone di Magnus non so se vi ricordate sì ma appunto che non era tex e ho capito ma io a me piaceva Magnus l'ho preso apposta per Magnus indipendentemente da tex vuoi dire indipendentemente da tex di cui devo dire in famiglia mio zio è un grande collezionista noi siamo però tex merita un grandissimo rispetto secondo me sono lettore di tex lo ammetto è un personaggio mitico del nostro fumetto in qualche modo per essere fedeli a tex bisogna essere infedeli al personaggio io sono convinto di questo altrimenti non c'è una vera novità non c'è un prosieguo e lo stesso si può dire anche per Diabolico per tutti quei grandi personaggi del fumetto nazionale o internazionale ma dai qui ogni tanto ci vuole un'iniezione di qualcosa di diverso ad esempio pure il Diabolico di Palumbo è diverso dal non lo sappiamo è diverso da quello che viene pubblicato nella serialità normale tra virgolette però è un'interpretazione interessante cioè ben venga questo è Alfredo Castelli che abbiamo citato più volte prima eh raga scusate ma qua veramente mi bella conozione è tanta certo sì era divertentissimo un commento comunque se mi posso permettere ti puoi permettere sicuramente anche se sono poche le donne fumettiste quelle che conosco le considero tutte artiste a parte le già citate Baralta Zig e Casotto vi sono anche delle grandi esordienti come Luana Bersito verissimo e Josephine Iole Signorelli che siete fumetti brutti se non erro eh ma abbiamo anche le Diaboliche che sono molto brave diaboliche sì quindi voglio dire ci sta una rappresentanza di no no ci stanno e sono molto brave del decente del sesso sì molto brave ci stanno sono molto brave poi voglio dire anche sì e questo è sempre una una bella notizia perché qua insomma se posso dire io ho notato molte coloriste donne e magari meno sceneggiatori donne però è la mia osservazione una riflessione o autrici completi coloriste però sceneggiatrici solo a parte la Baraldi già citata ce ne sono però mi sembrano di meno in proporzione sì anche a me un po' di meno se devo essere sincera però insomma alcune poi sono proprio fantastiche tra l'altro Silvia Ziche volevo far notare questa cosa per esempio a me Silvia Ziche piace anche perché ha fatto dei volumi molto interessanti dal punto di vista proprio sociale non so se avete mai letto e noi dove eravamo che parla della produzione femminile anche con la sua ironia perché la cosa che mi piace di Silvia Ziche è che ha quest'ironia incredibile magari potresti fare un volume vabbè Laura Scarpa in parte l'ha fatto le donne nel fumetto diciamo mi tu nel fumetto io ricordo un'intervista che fece a Val Romeo che disse inizio carriera l'ha detto in live quindi lo posso ripetere ha percepito anche un ostracismo nei suoi confronti è stata messa da parte in quanto donna quindi lei lo disse però tempi diversi quindi tempi diversi sì chiaramente tempi diversi tempo tempo eppure ragazzi come ricorda Laura Scappa e come mi ha ricordato Alfredo Castelli nell'intervista il fumetto mi diceva Castelli era stato proprio diciamo dedicato tra virgolette alle donne era considerato un mestiere da donne quando c'era la guerra appunto perché le donne rimanevano a casa a scriverli mentre gli uomini stavano al fronte e poi effettivamente il Corriere dei Piccoli opera di una donna sì osservazione molto arguta sì sì va bene lo stesso Diabolic che ho incinato a due donne le sorelle lussane certo quindi voglio dire poi dipende i tempi cambiano la sua percezione il suo modo fateci caso sono cambiate anche le figure femminili nel fumetto la prima non voglio portare acqua sembra al mulino diabolico però è vacante sì però scusate è vacante la prima che non è la solita mozzarella dietro all'eroe però è cresciuta nel tempo anche lei magari l'inizio era più dipendente in qualche modo dalla figura di Diabolic poi acquisisce un'autonomia straordinaria ed è diventata poi anche simbolo di tante campagne a favore della della donna e contro ogni forma di discriminazione sessista o di violenza contro le donne è vero stavo rileggendo Pierfaolo l'altra sera un numero un albo vecchio molto vecchio e stava Eva che diceva a lui oh finalmente sei tornato stavo tanto in pensiero ma adesso proprio non esiste proprio se lui fa ritardo lì sta già là che sta svaliggiando qualche cassaforte esatto esatto dunque un pregio del tuo volume è che è un volume interattivo parliamo di Germano Massese e incappiamo nel suo articoletto parliamo di Silvia Ziche delle donne ecco Silvia Ziche quindi questo volume se lo prendete quando lo aprite arriva direttamente dalla pagina che volete si è vero ha dei pregi ha dei pregi in più è vero appunto l'articolo che hai dedicato ma però il secondo vero come no lo presentiamo se ti fa piacere sempre nel salotto se hai piacere a condividere con noi stiamo qua eh certo chiaramente abbiamo dato la stura a tutte le autrici adesso sta il censimento di tutte le autrici esistono anche donne che sono diventate famose all'estero sarà Pichelli che ha creato il nuovo ultimo verissimo ciao a tutta Viva le donne ok Daniela Celetti è un nostro autore fa parte dell'associazione sì parliamo anche di che stanno diventando famosi in Francia parecchi sì anche Laura Zuccheri se non mi sbaglio benissimo quindi sì ad esempio questa tendenza di adesso ci sono molti italiani apprezzatissimi in Francia sì sì è da un po' che si diranno Cosimo Ferri anche che spesso abbiamo Cosimo Ferri un artistore Vincenzo Bizzarri ad esempio tra l'altro come Cosimo Ferri che in realtà lui in Italia nella teoria italiana non ha grandi spazi sì lui è stato anche duro in questo nel dire che la Francia dà più ospitalità agli artisti rispetto all'Italia ai canoni che ci sono in Italia sì questo bisogna dire insomma questo libro lo dobbiamo leggere lo dobbiamo leggere in tanti se no sì lo dovete leggere lo dovete acquistare così facciamo il numero due a tanti pregi anche interattivo come abbiamo detto sì e poi ha ha un adesivo fantastico che non so se ha fatto vedere adesivo ci si vede nella nel pdf è vero ah vedo che qua stiamo vedendo Silvia Ziche Riccardo Nuziati altro grandissimo disegnatore come Pierpaolo e tu Marco potete testimoniare è bello vedere che queste persone sono famosissimi questi artisti questi sceneggiatori sono anche umili e molto disponibili è vero questo non te lo aspetti è vero più sono grandi e più sono disponibili e gentili beh hai nominato Igor Laura Scarpa Fredo Castelli insomma sono sicuramente degli autori importantissimi molto importantissimi eh devo dire raga c'è tanta roba c'è proprio tanta roba quindi ci sono tutte interviste ma le interviste e le domande cambiano a seconda dell'autora immagino sì cambiano fondamentalmente ah Silvia Diacovici bellissima delle domande che io mantengo eh tipo mi interessa sempre sapere qual è il primo albo che hanno letto ah bellissimo una personale classifica quasi tutti hanno letto come primo fumetto Topolino ah io invece Diabolik eh sì cioè sinceramente non saprei risponderti tra i due tra Topolino e Diabolik il quale ho letto per primo eh mi hai messo questa curiosità addosso ci devo pensare poi un'altra classifica chi ha letto Diabolik lo leggeva di nascosto perché per quelli della nostra generazione Diabolik era proibito beh io sono più giovane no non c'era più questo Topolino di Diabolik no però a me lo passava mio padre quindi era stata tranquillamente superata il proibito infatti penso che forse le letture dei genitori da piccolissime influenze mio padre leggeva Diabolik e Tex e io sono cresciuto a Diabolik e Tex penso un po' più che succede infatti quelle sono le letture Corriere dei Piccoli quindi mi sono fatta una specie di classifica al primo posto Topolino poi Diabolik Corriere dei Piccoli ovviamente Corriere dei Piccoli un po' più agè perché magari noi parecchi di noi hanno letto e sono sono lettori e sono stati grandi lettori del giornalino ad esempio il giornalino era una signora pubblicazione che ospitava grandissimi autori tra l'altro infatti devo dire ha scoperto e ha valorizzato tanti autori italiani questo bisogna dire è stata una fucina sì sì devo dire e poi ho fatto anche una classifica sugli autori cioè io chiedo anche se hanno dei punti di riferimento così ho notato che ci sono dei disegnatori che piacciono un po' alla maggior parte ad esempio Andrea Pazienza piace molto ah sì sì è molto generazionale ma sì sono poi generazionale anche sì io una cosa che notavo una volta quando tu dicevi leggi i fumetti sì Andrea Pazienza perché era uno dei nomi più famosi allora dicevano Andrea Pazienza mo' dicono tutti zero calcare perché è famosissimo serie dettili quindi sono quelle risposte che vanno sempre bene generazionali sì per esempio c'è stato un periodo che andava tantissimo Sio come no sì sì ma penso che vada ancora e va ancora tanto per esempio Sio diciamocelo oltre che essere persona molto simpatica ha avuto anche lui il pregio di aprire a un certo tipo di pubblico no sì sì volendo parlare di fumetti diciamo non canonici per Atunz starebbe un successino un successo enorme eh per Atunz mi fa morire ma mi piaceva tanto Don Alemanno non so se ve lo ricordate che è un po' passato purtroppo sì non so che fine ha fatto io lo adoravo io adoro per esempio visto che mi hai detto Don mi hai fatto ricordare Don Zauker mi fa impazzire ah Don Zauker è il duo dei paguri mitico no i paguri sono proprio cattivissimi cioè un personaggio più perfido di quello non lo potevano fare corretto politicamente abbiamo anche Iacovitti Silvia Iacovitti che racconta il grande eh quella è stata un'intervista emozionante ti devo dire la verità perché Iacovitti spesso viene sempre poco ricordato secondo me anche questo lo stavo per dire viene poco ricordato ed è stato uno dei nostri grandi grandi viene poco ricordato cioè dovrebbe essere secondo me più attenzionato a mio obiettivo però va detto a onor diciamo di Iacovitti e della sua memoria che l'istituto poligrafico e zecca dello Stato dopo aver dedicato un tris di monete a Diabolic l'anno scorso quest'anno lo ha dedicato proprio a Iacovitti quindi e ha fatto la metà del suo dovere ah ecco qua l'abbiamo nominato prima eccolo qui Andrea Agat questo sarebbe il più grande uno dei maggiori collezionisti di Diabolic sì se vuoi sapere tra l'altro se una cosa è vera o è tarocca lo chiami sì è in grado di periziare gli albi originali o meno di Diabolic eh perché con i costi che ci sono perché ricordiamoci che il mondo del collezionismo è anche quello cioè è anche fatto di costi come quindi onde evitare di cacciare diecimila euro per un albo numero uno fasullo chiediamo a chi ecco sarebbe anche interessante fare delle interviste ai falsari che secondo me stanno essere a modo loro degli artisti non credo che sia però magari celati potrebbe essere simpatica sotto qualche pseudonimo anche quella pur essendo chiaramente qualcosa di esecrabile però per essere i falsari bisogna avere un'arte io di questo mi vado sempre più convincendo quindi sotto falso nome sotto non de plume perché no anche un'intervista ad un abile falsario ci potrebbe essere quindi abbiamo detto addetti stampa letteristi grafici e delinquenti i dei che siamo tutti quanti tutti tutti perché così raga ribadisco il concetto ci sono tante persone dietro la realizzazione di un albo e fanno tutto il loro lavoro e greggiamenti a parer mio in Italia si fa anche molto bene ci sono grandi artisti casi editrici meno rispetto al passato però quelle che ci sono si danno da fare tanto facciamo le belle pubblicazioni e le storie non per dirlo perché ho due sceneggiatori qui davanti però le storie sono belle e noi siamo ancora bravi a creare le storie abbiamo fatto una scrollata veloce di tutto il volume allora un altro commento che ti riporto il giornalino era una grossa pubblicazione confermo che nomi anni 80 e 90 a parte i citati sclavi dell'upe diacovizio l'andolfi top sì sì sicuramente una licepopedia del fumetto verissimo allora ricordiamo il tuo volume è disponibile abbiamo detto il castello edizioni ecco qua che il nostro pier lo favorisce castello edizioni disponibile a catalogo basta andare sul sito il castello edizioni nuvole parlanti di Alessia Paragone potete rintracciarlo potete contattare anche a te direttamente giusto? volendo io posso contattare anche a me direttamente in alcuni posti anche si trova fisicamente per acquistarlo si si trova fisicamente se siete in zona foggia andate da ubic ubic di foggia e arriverà anche all'uomo spazio fumetto infatti ho detto al direttore ho già chiesto al direttore a Luigi Bona che peraltro è stato è una bella intervista a Luigi Bona? già fatta e non l'hai messa il nuovo fumetto va assolutamente ragazzi è uno di quei posti che dovremmo tenere come dei sacrari veramente è un posto bellissimo fanno un gran lavoro delle belle mostre molto curate e dentro ci lavorano persone proprio in gamba devo dire sono andata l'altra settimana da Spazio Wow sono andata a vedere la mostra su Lady Oscar veramente bella per recuperare le tue interviste così me la vado a cercare quella di Luigi Bona il mattino di foggia Alessia Paragone scrivi Luigi Bona esce l'intervista vabbè esce tutte le varie interviste la scogliera dei suicidi scogliera dei suicidi possiamo leggere tutte le varie e lo scogliera dei suicidi hai fatto una recensione però o un'intervista a uno ho fatto la recensione e poi ho fatto l'intervista a Marco Bianchini ah Marco Bianchini ma l'altra cosa interessante che potresti intervistare le gallerie del fumetto che stanno aumentando sempre di più Marco Bianchini ti ha nominato ha avuto un'esposizione in una galleria quindi magari pure le gallerie visto che te la lancio ho fatto tutto ho fatto anche ho fatto interviste ho fatto interviste spesso per il Club Museum di Pescara ad esempio perfetto sì sì io sono per il fumetto a tutto tondo anche per i festival minori perché il festival minori deve poter crescere ti ribadisco il mio concetto è che ci dobbiamo tendere una mano non ci dobbiamo fare una guerra giusto e poi a che pro la guerra a che sarebbe come dire io ospito te sul mio blog faccio pubblicità alla tua cosa tu ospiti me cioè alla fine ricaviamo tutti quanti delle opportunità soprattutto noi dello scarabocchiatore dico noi come associazione crediamo molto in questa cosa perché condividiamo tantissimo il re testimone che anche lui fa parte dello staff abbiamo proprio come mission vuole di far crescere autori componenti del mondo del fumetto anche perché più ci si mette insieme più si può crescere come anche diceva giustamente Alessio sì infatti ho visto fa un lavoro veramente molto bello lo scarabocchiatore promuove tanto e ribadisco sono rimasta proprio colpita dalla scogliera dei suicidi bravi non è facile arrivano i complimenti per te Alessia buona serata a tutti e complimenti live ospite tutto super grazie grazie ovviamente li ho pagati tutti sappiarlo certo è ovvio anche noi insomma attendiamo un tuo bonifico istantaneo allora siamo arrivati alla nostra oretta concessa al mondo del fumetto io ringrazio tantissimo Alessia che ha accettato il mio invito io ringrazio ricordati che sei il prossimo ok detta così suona quasi è una promessa o una minaccia non si capisce bene ha avuto un tono un po' così ringrazio Piero che ha condiviso con me la live che di solito faccio in solitaria però ti ringrazio è stato un grande piacere per me tra l'altro Alessia l'ho invitato tante volte Piero non è mai venuto Alessia Paragone sta qua vedi detto così vabbè poi ci vediamo è un caso sarà un caso veramente grazie di esserci noi ci siamo guarda è stato è bello rivederci ci siamo divertiti arrivano i saluti di Germano che ci ha seguito tutta la live grazie Germano Germà grazie quindi ricordo le nuvole parlanti dove stanno interviste a tutti gli autori tra i migliori autori a parte la lista nera che non ci vuole dire però se stanno i migliori autori sulla piazza un quadro completo sarà anche gli appassionati ha dato spazio anche al fandom quindi che volete di più ricordo visto che ci troviamo a parlare di fumetti la rivista volume 3 dello scarabocchiatore attualmente in preordere passa ad andare sul sito dello scarabocchiatore che potete vedere con anche The Maid The Maid di Giovanna Casotto che abbiamo è un'opera che merita molto che anche lei dovrebbe stare in lista fra le interviste giusto Ale? Giovanna mi raccomando ti aspetto perfetto quindi abbiamo fatto l'invito in diretta eh Giovanna ti aspetto ragazzi un abbraccio grande a tutti quanti grazie a chi ci ha seguito grazie a voi ragazzi un bacione grazie ancora allo scarabocchiatore alla prossima live ne teniamo un'altra venerdì ve lo ricordo ci sta una una piccola cassa di truce la Alchon che ha fatto un volume di fantascienza con verranno i loro auguri venerdì alle 16 sempre all'ora del tè fritto perché fa caldo per quello peraltro arrivederci a tutti un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti